Martedì sera 7 aprile 2020 in Consiglio Comunale a Cesenatico hanno votato lo slittamento della Tari e della COSAP. Mi sembra giusto fare presente che in Consiglio Comunale c'è stato anche chi avrebbe chiesto l'esonero di tali tasse nel periodo di fermo forzato per le piccole attività commerciali. Martedì 7 aprile 2020 Consiglio Comunale di Cesenatico, ordine del giorno COSAP e Tari che slittano al 31 luglio 2020. Oggi riportiamo le richieste della Consigliera Comunale dell'opposizione Giulia Zecchi della Lega. L'esonero di COSAP e Tari in favore delle attività commerciali di Cesenatico che in questo periodo di fermo forzato non usufruiscono di tale servizio. Quali sono state le richieste fatte all'amministrazione comunale e dal sindaco Matteo Gozzoli? Ero d'accordo per lo slittamento della Tari e della TOSAP ma io ho chiesto di fare una proposta su un emendamento chiedendo uno sforzo maggiore all'amministrazione di non solo slittare questi pagamenti ma di esonerarli. Mi sono rivolta soprattutto al nostro sindaco in questo momento perché secondo me dobbiamo toglierci tutti la casacca e andare tutti nella stessa direzione. Ho riportato all'attenzione dell'amministrazione tali esempi. In questo periodo gli ambulanti da un mese non fanno il mercato quindi non usufruiscono materialmente del suolo pubblico. Questa è una richiesta che non vi sto facendo solo io ma l'Associazione Nazionale Ambulanti lo sta richiedendo a gran voce a livello nazionale. Sarebbe bello che Cesenatico fosse un esempio di risposta in modo positivo a queste richieste come per gli ambulanti, per i bar, le edicoli, i ristoranti e tutte quelle attività commerciali chiuse che non usufruiscono del suolo pubblico in questo momento di fermo obbligatorio. La COSAP per Cesenatico è un'entrata per 140.000 euro. Se non lo vogliamo fare per l'Atari almeno un segnale per questa tassa. Facciamo presente che alcuni comuni in Italia tipo Roma e Torino hanno già fatto una delibera di esonero per il pagamento e non solo il rinvio. Come ha risposto l'amministrazione comunale alla tua proposta di esonero del pagamento della COSAP e dell'Atari per le attività commerciali chiuse in questo periodo? L'amministrazione ha risposto che oltre ai cittadini e alle attività commerciali anche il comune ne uscirà in difficoltà da tutto questo perché entreranno meno soldi nelle casse comunali. Nel frattempo hanno fatto il rinvio dei pagamenti al 31 luglio 2020 attendendo comunque le mosse che farà il governo e la regione nella possibilità che arrivi una scelta di esonero. Da Gioia Emilia Romagna